Quattro verbali su via Bruno Bozzi al quartiere Stanic, cinque su Corso Trieste nelle vicinanze della spiaggia di Pane, Pomodoro e altri tre sul lungomare di Crollalanza di fronte a Piazzero e del Mare a Madonnella per un totale di 12 sanzioni per il superamento del limite di velocità e una per mancata revisione al veicolo. Vita dura in città per coloro che circolano sui propri mezzi superando i limiti imposti dal codice della strada. Nelle scorse ore la polizia locale del capologo pugliese ha intensificato i controlli stradali sulla velocità con l'utilizzo dei telelaser dopo gli investimenti mortali nei giorni scorsi. Le strade oggetto degli interventi sono state e saranno anche nei prossimi giorni i rettilinei a scorrimento veloce come lo stesso lungomare Nazaro Sauro, via Caldarola-Yapigia, via Bozzi e viale Papa Giovanni XXIII. Nelle ultime due settimane tre pedoni sono stati investiti uccisi mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Il 29 luglio un 47enne con in braccio il figlio di sei anni è stato investito e ucciso da una moto guidata da un 21enne senza patente sul lungomare di Santo Spirito. Il 3 agosto una 63enne è stata travolta da un'auto davanti alla spiaggia barese di pane e pomodoro morendo in ospedale due giorni dopo. L'11 agosto un 87enne è deceduto dopo essere stato investito da un bus vicino all'ospedale policlinico. A seguito del terzo investimento mortale il sindaco Antonio De Caro aveva annunciato che oltre ad aumentare il numero delle zone 30 in città avrebbe chiesto agli uomini del comandante Michele Palumbo di intensificare i controlli con il telelaser sull'itinerario a scorrimento.